Buongiorno a voi tutti, sono Alessandro Farina, amministratore unico di ITL Group, studio di consulenza che opera a Budapest da oltre 20 anni e editore di Economia.hu, il portale di economia ungherese in lingua italiana. Martedì 13 marzo alle ore 17, vi aspettiamo al web seminario che avrà luogo naturalmente su Economia.hu, dal titolo con l'eccellenza si riparte, organizzato grazie al contributo di Minerva, avremo come relatore il dottor Adriano Lucchini, esperto di eccellenza, e parleremo dunque di temi legati a come differenziarsi e come competere meglio nell'ambito dell'attuale sistema economico. L'iscrizione al web seminario è gratuita, basta seguire il link e tutte le istruzioni che trovate sul sito Econiac.hu. Vi aspetto dunque martedì prossimo, grazie.